Musica Questo canale è sponsorizzato da Star Select Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Cydonia Trovi il link in descrizione Ciao a tutti ragazzi, qui è Cydonia, Chiara accanto a me E benvenuti in una nuova Ultra Dumb Battle Let's Go Scambio e Ultra Dumb Battle Let's Go Prodigioso Siamo sulla fase del pareggio, quindi di conseguenza abbiamo finito con le nostre prove Abbiamo finito con i nostri esperimenti sociali Il team Cydonia oggi porterà a casa la vittoria che se ci pensate fa ancora più male Fa ancora più male perché sul pareggio il team Chiara penserà di essere lì lì Per riuscire a far trionfare la luce sul buio Ma in realtà è tutto inutile, tutto inutile E per dimostrare tal assunto comincerò io a prendere i primi 6 Pokémon Che vedrete saranno 6 Pokémon incredibili Me lo sento qui dentro nel cocoro che non ho perché è oscuro Il primo Pokémon sta per arrivare Sarà, come ho detto prima, un Pokémon importante Me lo sento Vediamo, arriva una Boru Una Pokéboru Cosa? Ma non ci posso credere Ma cosa vuol dire? Ma che cosa significa? Ora prima stavamo scherzando, era di riscaldamento Un'altra Pokéboru Oh E vabbè Il Pikipek è comunque forte Colpo coda Beccata Terzo Pokémon Vediamo una Ultra Boru Perché mettere questa cosa in una Ultra Ball Perché farmi sperare che sia una cosa bella E poi esce fuori questo Tra l'altro ho mandato a Lens Quarto Pokémon Ora si comincia a fare davveramente sul serio Un'altra Ultra Boru Uh 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 Va benissimo Va benissimo Ok Finalmente cominciamo a avere qualcosina Sì, not fully evolved Però insomma Cioè, facciamo un catta di qua Un catta di là Il prossimo membro della squadra Viene direttamente da una Ball Che... Oh no Un'altra Starter Erba No Ma che ci faccio con tutta quanta questa erba Ah 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 E l'ultimo Pokémon Signori L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo Vediamo un po' che cosa ci arriva Tra le grinfiotte del male Un... Un... Dive Ball Con dentro Feebas Beh Che dire Parte la prima Ball Va nella Stratosfera E in cambio arriva E allora per ripicca Adesso lo mandiamo noi Un Wingull Perché se no Non è paritaria la situazione E in cambio Arriva Un Sneasel Magari ha qualche mosso interessante Terzo membro della squadra Che va Terzo membro della squadra Che arriva Magelax Ok Dai Non è proprio come La sua versione è evoluta Ma ce lo facciamo andare bene Lo stesso Vediamo un po' se la nostra Samantha Ci darà qualcosa di interessante Arriva una Ball Con dentro Oh Lui può essere molto interessante Brava Samantha Penultimo Pokémon Che parte Arriva in No Non sto andando affatto male Vediamo L'ultimo Membro Nella squadra Di questa partita È Un rullo di tamburi Lo stavo per dire Lo stavo per dire Sarebbe arrivato Vabbè È giusto Signore Abbiamo Trovato le nostre squadre Io sono fiducioso Nonostante Anche tu sei fiduciosa Nonostante Sì Bene E allora Sul pareggio Io selezionerò Una musica un po' Bislacchella E cominciamo Perché anche le Z Sono state assegnate Quindi non c'è più Nessun motivo Giusto Sigma Non c'è più nessun motivo Di attendere ulteriormente Per dimostrare Che il male Ha sempre tutto in mano La malvagità di Gekis Cerca di dirmi qualcosa Cerca di farmi prendere L'energia oscura necessaria Per portarmi in vantaggio E portare il team Sidoni A ridere di nuovo Delle disgrazie altrui Cappellino blu Cappellino bianco Nessun cappellino Io mando in campo Un coreano Il brutto Anatroccolo coreano Esatto Ah Complimenti Sbilanciata Come lotta Ma io ho la mossa Non ti preoccupare Ho la mossa Esattamente che mi serve Io ho Una serie di attacchi Stub Su questo Auluccia Sono tutti Stub Eeeh Dai E' il primo Che io se ne va così Mannaggia la peppa Peppante Ma ripeto Ancora una volta Il problema Non si pone In realtà Non si pone affatto Perché noi abbiamo Le soluzioni A tutti quanti i problemi Prego 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 Guarda il tuo facciore Dai ottimo Abbiamo perso un turno Cioè cercando di sfiancarmi mentalmente No è per leggerti le mosse No Ti ho scautato adesso No 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 Reggila 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 per l'amor dello cielo Oh brutto colpo Oh E allora guarda cosa ti dico io Ma cosa ti boosti in faccia a me Come ti permetti Io il re del boost E tu ti boosti in faccia a me E tu lo fai sempre Guarda ti becchi un altro crit e muori Guarda guarda la giustizia Grazie divina E invece Oli peperoni Ma va bene Va bene Ho fatto tutto del calcolo Non ti preoccupare Ho fatto tutto del calcolo Era tutto previsto Beh certo Beh certo Va bene Tiro fuori il mio pezzo da 90 Saita Le cesoie Ma è come l'amantiter religiosa Che abbiamo Sì qua fuori Sì qua fuori Da una settimana Sì veramente da una settimana Che sta là fuori È diventata la nostra nuova amica Sì 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 E lui la vuole chiamare Saiter Ed è qui nel gioco adesso Te la sei chiamata Saita Vediamo Ah Aia La prioritanza signori La calcolanza Della velocità Della mantide Delle chele Delle cesoie Del tagliare Prima che gli alti Taglino te Gli alti No gli altri Gli alti perché abbiamo fatto La teoria di giganti Quindi comunque è pericoloso Stai attento Stai attento Guarda cosa ti mando Carpador Questo può essere secondo te Ok Magikarp Pesci tondi come il branzino Comincere tagliare il loro spirito ambizioso Di ribaltare la situazione Guarda che ti faccio No no Non mi fai niente Muori Muori che io Non mi parrare Non ti permettere Sì sì Ridi Mamma ha fatto Gnocchis Vai vai Ridi Oh vai Sbuccia questa Anguilla Signor Manchlax Signor Manch Non ha niente di meglio Team Cydonia Che cos'è questo rumore Il rumore di Scyther Che sweepa Tutta la squadra Di Chiara Sento rumore Di forbici Che tagliano Tutto quanto Ai rumore Vieni 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 Non ci vogliamo interrompere Dicevi Team Cydonia La battaglia è solo appena cominciata Non vi preoccupate Ok Un casino Un casino Come lo butto giù questo Qui ho la necessità Di un agnello Del sacrificio Oh poverino Sì 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 tartaruga vai Poverino Franklin tartaruga È affogato In una foglia di lattuga Vai Pronti via Ma che c'è la buchi Che buchi Mamma mia Guarda che botta Che ti tiro adesso No Ma che di prima te Però pensi di resistere Sai Guarda Guarda che roba Che ti faccio Boom Peso bomba Il tartuig Più sarà Dieci grammi Più sarà dieci grammi L'agnello sacrificale Ha fatto quello che doveva fare Perché adesso Non è semplice Ma sapete che il team Cydonia La può gestire sempre E abbiamo già un plan Abbiamo già un plan Per arrivare fino in fondo È un plan che si basa Su una scommessa Molto importante Ma è comunque un plan Stai e state a vedere Stai e state a vedere Allora è un mossa importante Sono pronto Vai Tuo mondo Comuneari Questo vi hanno passato Cioè Veramente Oh ma Oh ma Oh ma Per non sapere Pure io Come switchi No Per non sapere leggere Non scrivere Io ho un secondo agnello sacrificale Che è anche l'ultimo Ma io non lo so Stavo dicendo Che è anche l'ultimo Perché dopo Mi rimangono due Pokémon Quindi insomma Gli agnelli sacrificali E anche basta Però vedi Piano piano ti perce Non ti preoccupare Un PS alla volta Eh 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 Un PS Un piessino alla volta Piano piano Goodo goodo Buono buono Guarda Guarda Sguardo della paralisi Adesso ti faccio Il danno che basta Il danno che basta Per buttarti giù Se succede così Mentre c'è Rowlet Poi crepa Rowlet Arriva Scyther E non rimane mai paralizzato Io mi adiro Va bene? Dai Action Piano 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 Ma guarda che la tattica No? Che pur di non missare A rasoio Perché c'è insieme La paralisi Fa comete Ma guarda che Stai sbagliando Mi devi buttare giù Il prima possibile Mi devi Ho capito Eh eh Mi devo prendere Sia la par Che la possibilità Di missare Scusa Beh meglio per me Vedi? Sicurezza Stelline Guarda 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 come ti porto In range di kill Delle mie mosse Di quelle belle Vai vediamo Dai Dai ho ancora Credo Altri due comete O un'area a soio Prima di morire Pianino Pianino Dai rimani paralizzata Rimani paralizzata Pianino Pianino Bravissima Action Nooo Uh 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 Eita 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 Eh sì Va bene Va bene Io ho fatto Quello che dovevo fare Più o meno E adesso E adesso Vai Saita Molte sferza Tagliamo Saiter Tagliamo Scarmory Brutto colpo Ma non mi fai tanto Pensavo peggio Pensavo 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 Della peggioria E allora Tagliamo Saito Nooo Saito Nooo Saito La gestione Signori La gestione E allora Andiamo Con le cesoie A tagliare l'acciaio Inox Mastrota Guardami e impara Che hai? Che hai? Ti vedo affranta Ti vedo affranta Elisa Vai Elisa Un altro volante Ma si può essere Spaventati da Wingal Con davanti Saiter Avendo come risposta Sì Perché Va bene Torna Coniglio della paralisi Vai E paralizzare tutti Mi chiappavi Se non mi sdrumavi Hai già capito Cosa succederà Oh mamma Da chi arriva? Da te Eh Snisellino Però è debole A Saiter No Oh Che culo Che culo Ah c'è le priority pure Mannaggia la peppa E almeno Anche se in realtà Forse la potevo evitare Questa cosa Però non so Che mosse hai Non so Che cosa può fare Sto coso Mamma sei tirata Mamma se mi uccide Wingal Quanto rosico No Cioè Non avete idea No Non può finire così Dai Saiter Dai che facciamo anche L'affettato di Donnola Eh ovviamente Tu c'hai geloscheggia Oh Che male Allora Il concetto è Che è un casino Partiamo da questo presupposto Perché io devo sperare che tu ti becchi il full para Ti devi beccare il full para O mi ammazzi Mi ammazzi di brutto Puoi sempre beccare il full para Miro Vediamo Supreme Darkness You're wrong I know now Without a doubt Kingdom Hearts Is light Tra l'altro Sai su chi la mia moglie zeta No Su Wingal Ti ho messo la data Allora Ci sono tante formalità da sbrigare La prima è Vuoi salvare il video Non puoi semplicemente premere No Ok La seconda è Siamo passati in vantaggio Quindi ragazzi Abbiamo dimostrato Che dopo un abbastanza breve Dominio Dell'oscurità La luce è tornata A regnare E splendere Ma Siccome noi siamo Buoni e giusti Io ho una penitenza da scontare Comunque Nonostante io abbia vinto Quindi Per me Questa è una vittoria un po' Morale Agrodolce Perché la penitenza Che devo scontare Dalla volta scorsa Visto che il Il mio elogio di Barbara Colvia è piaciuto molto Mi avete chiesto Un elogio di Dragonite Quindi Dragonite è molto Bello Perché è arancione Quindi si sa che Che cosa è arancione? Allunghino è arancione Arancione Allunghino è arancione Il nostro mobile Il nostro mobile Delle console È arancione Anche Sigma Anche Sigma è arancione Sigma è solo grasso Come Dragonite Non è arancione Il fatto che Dragonite Sia molto panzuto È una cosa Che sicuramente Da giustizia Alla sua linea evolutiva Uno guardando Dratini e Dragoner Pensa Ah quello che gli serve A questi due pokemon È proprio Di mettere su 150 kg E diventare arancioni No? E sviluppare Da non si sa dove Delle zampe Senza nessun tipo Di senso Perdere completamente Tutti quanti I connotati Che li caratterizzano Come appunto Il colore La tipologia di ali Il gioiello No? Tutte queste cose brutte Perché mantenerle Molto meglio Perderle tutte quante Fare la brutta copia Di prezzemolo Mischiato con Charizard Con degli evidenti Problemi di metabolismo E sicuramente È un pokemon Meraviglioso Io penso Non ci sia Pokemon più brutto Di Dragonite E peggio ancora Che Barbaracol E Barbaracol È fatto male Cioè Barbaracol È oggettivamente Uno schifo Ma Dragonite È un insulto È uno sputo Sull'onore Perché te fai Dragonair E poi fai Dragonite No? E Bello un sacco Dragonite Mi piace Signori La penitenza di Chiara È stata scontata E dovrete scegliere Innanzitutto Nei commenti La mia Purtroppo Di penitenza Dato che ho perduto E il Team Sedonia Passa in svantaggio Ma era quello Che volevamo dimostrare Ovviamente Volevamo dimostrare Che in realtà Fa ancora più male Se il Team Sedonia Passa leggermente In svantaggio Di un punticino Che è una cosa Che possiamo tranquillamente Recuperare Nella prossima Dun Battle E poi successivamente Strappare questo vantaggio Dando così La sensazione Che il Team Chiara Non possa assolutamente Fare niente Che non possa rimanere In vantaggio Neanche per una settimana Già la settimana prossima Raggiungeremo il pareggio E avremo finalmente Dimostrato Quello che volevamo Sicuramente Io penso tu abbia dimostrato Di essere la persona In grado di secciarsele Nella maniera più totale Sicura Avevo una squadra terribile Avevo Tartwig Growlet Non è che io avessi Gli sacchi e geni Ho beccato una luce Aveva solo azione Non aveva neanche una stab La mia era peggiore Io veramente Ero proprio messo malissimo Però si devo ammettere Che entrambe fossero molto brutte A questo punto ragazzi Se il video vi è piaciuto Ma se proprio vi è piaciuto Perché a me mica tanto Mettete un like qua sotto A forma di forbice X Quindi sono due like almeno E io vi ricordo Che in descrizione Oltra Star Select Avete anche Split Screen Il nostro shop di magliette E qui in schermo Vedete i nostri due beniamini Del Team Cydonia E del Team Chiara Di oggi Ma dove il mio Naturalmente festeggia Un po' più del tuo Ma in realtà anche il mio Festeggia Perché è sempre una festa Nel Team Cydonia È come l'inferno Sì sì una scusa Riesce a inventarla È come il diavolo Capito All'inferno si fa sempre festa Che vadano bene le cose Che vadano male Va bene Sì sì Noi siamo sempre contenti Siamo sempre contenti Quindi Bene così Signori vi ricordo Che potete acquistare Magliette, tazzine Shopper, zaini Spille Un santino Un cornino Per noi particolarmente Perché comunque Dovremmo fare il cornino Nel Team Cydonia Però Prossimamente Io vi ricordo signori Che ci vediamo stasera A ore 20 e 45 Per la live di Pokémon Clover E peraltro domani pomeriggio Alle 17 e 30 Avremo anche una live speciale Dedicata a The World Dance With You Final Remix Il porting Su Nintendo Switch Io ho detto tutto quello Che dovevo dire Io non credo Perché? Secondo me invece dovresti Analizzare un po' Il fatto che Oggettivamente È tornata la luce Non sei contento Sia tornata la luce Si vede meglio Con la luce Sapete qual è il controllo di luce? Quando spegni il video Perché c'è buio Grazie a tutti